Buonasera dal Tg6, apriamo con la politica e con la lunga pagina dedicata ai risultati dei ballottaggi della giornata di ieri. La coalizione guidata dal Partito Democratico conquista i comuni di Basto, Lanciano e Roseto degli Abruzzi. Nel dettaglio andiamo a vedere con la grafica quelle che sono state le percentuali dei candidati. Iniziamo dal comune di Roseto degli Abruzzi dove a vincere è Sabatino di Girolamo che conquista 7.377 voti pari al 60,32% del totale. Il sindaco uscente Ennio Pavone si ferma a 4.853 preferenze pari al 39,68%. Ora invece il comune di Vasto vince il Partito Democratico Francesco Menna con 9.978 voti pari al 50,31%. Il candidato del centrodestra Massimo Desiati si ferma a 9.857 voti pari al 49,69%. A Sulmona il sindaco Anna Maria Casini con il 65,35% delle preferenze supera nettamente Bruno Di Masci che si ferma al 34,65%. Anna Maria Casini per la coalizione Noi per Sulmona ha ottenuto 6.900 voti. Bruno Di Masci candidato del centrosinistra già sindaco di Sulmona per due mandati ha ricevuto solo 3.659 voti. E poi il comune di Lanciano riconferma Mario Pupillo il sindaco uscente che resta solidamente in testa con 10.089 voti. sono il 54,75% delle preferenze. Il candidato di centrodestra Enrico D'Amico nonostante l'apparentamento con Casa Pound e la lista civica riceve 8.335 voti e si ferma al 45,25%. E ora andiamo a vedere quelli che sono stati i momenti più salienti della nottata di ieri nella lunga diretta che abbiamo seguito per TV6. Iniziamo dal comune di Vasto, c'è stato un serrato testa a testa fino all'ultimo dove a spuntarla per 121 voti è stato proprio Francesco Menna, il candidato del centrosinistra che ha ribaltato la situazione di svantaggio registrata al primo turno nei confronti del candidato di centrodestra. Ci racconta tutto Andrea Costantini. In Abruzzo il turno di ballottaggio più combattuto è stato quello del comune di Vasto, un testa a testa all'ultimo voto che alla fine ha premiato Francesco Menna della coalizione di centrosinistra che ha prevalso di un'incollatura per soli 121 voti sul candidato del centrodestra all'ex assessore regionale Massimo Desiati. 9.978 preferenze pare al 50,31% contro i 9.857 di Desiati per il 49,69%. Una campagna elettorale dura anche a Vasto nella quale le polemiche non sono mancate. Menna senza fare apparentamenti ha ribaltato il verdetto del primo turno quando era stato Desiati a chiudere in testa con 238 voti di vantaggio. Un successo che mi porta a impegnarmi in maniera importante per la mia città, in maniera tale da lanciare la grande sfida per il buon governo, coltivare i rapporti con la regione, coltivare i rapporti con Silvio Paolucci, con Camillo D'Alessandro, con Luciano D'Alfonso, con il governo nazionale, con Bruxelles, lanciare la grande sfida per la Vasto Competitiva. Qual è stata la leva che ti ha portato a sconfiggere Massimo Desiati? C'è una leva umana, un fattore umano di tanti amici, c'è un fattore dettato dal rinnovamento, dalla passione, dalla competenza e poi c'è un fattore che è il senso di fede, il senso di rispetto per l'altrove, per quei tanti dirigenti saggi che mi hanno animato e che non ci sono più. Una squadra ringiovanita, quella sulla quale farà leva il 38enne neoprimo cittadino vastese, Antonio Del Casale, Anna Bosco, Carlo Della Penna e Paola Cianci saranno assessori al pari dei più esperti Giro Marcello e Gabriele Barisano. Da decidere il settimo assessore sarà una donna, a loro il compito di proseguire il lavoro del sindaco uscente Luciano Lapenna, anche gli espressioni del centrosinistra, che sarà consigliere comunale in quota PD. Beh, siamo contenti, era quello che ci siamo battuti, una campagna elettorale durissima, abbiamo visto a volte troppa presunzione da parte dell'altro schieramento, che era con la vittoria in mano oramai fin dal primo turno, tant'è che li abbiamo sentiti parlare di cifre a non finire. Siamo contenti, cosa devo dire? Si apre questa sera veramente una rivoluzione generazionale per questa città, la giunta c'è, l'offerta della presidenza a Ludovica Cieri è stata fatta e va confermata da parte di Francesca e dello schieramento perché parte una nuova nave oggi. Noi daremo il nostro modesto contributo, appoggio, defilati rispetto sicuramente a questo percorso, però ecco siamo, inutile dirlo, molto soddisfatti. In Consiglio Comunale 15 seggi per la maggioranza così suddivisi, 7 per il PD, 3 per il filo comune, 2 a testa per le liste Avanti Vasto e Sì per Vasto, 1 per Città Virtuosa, 9 i seggi per l'opposizione, oltre a desiati entrano in Consiglio gli altri candidati a sindaco, Ludovica Cieri dei 5 Stelle ed Edmondo Laudazzi della lista civica Il Nuovo Faro. E se il Comune di Vasto ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino a tardanotte al rosetto degli Abruzzi. Il risultato arriva dopo 40 minuti dalla chiusura dei seggi a vincere il centro-sinistra con Sabatino di Girolamo. Vediamo. Roseto degli Abruzzi torna al centro-sinistra. Sabatino di Girolamo del Partito Democratico è il nuovo sindaco. A spoglio concluso il vantaggio sul sindaco uscente Enio Pavone è superiore ai 20 punti. Di Sabatino infatti riceve 7.377 voti, pari al 60,32%, Pavone si ferma a 4.853 preferenze, pari al 39,68%. Un grande impegno, un onore e un onere, ma faremo il bene di questa città. Sono le prime parole del nuovo sindaco che in primis ringrazia i rosetani. L'emozione mi ha sopraffatto e quindi non so cosa esprimere in questo momento se non un grazie ai rosetani di vero cuore per questa manifestazione di stima che si è già palesata al primo turno e si ripete adesso. Sento la responsabilità che mi viene data, mi ringrazio e sono sicuro che con una bella squadra riuscirò a fare qualcosa di serio, di bello per questa città. Facciamo alcune formalità di rito, dopodiché cambierà tutto in questo comune come è logico che sia quando c'è un rovesciamento di questo tipo. Un risultato straordinario per il Partito Democratico, così l'onorevole Tommaso Ginobble. Un risultato del Partito Democratico di questo comune, di questa provincia e anche di questa regione. Abbiamo avuto tante persone che si sono impegnate per questo risultato. Lei prima ha citato quattro personalità, c'è anche il segretario provinciale del Partito Democratico che suggella questo risultato. Mi permette di aggiungere che il partito Democratico questo serve a dare maggiore forza al territorio della nostra provincia che deve combattere spesso per avere ciò di cui ha bisogno. Speriamo che i livelli superiori tengano conto di questo, altrimenti ce lo conquisteremo sul campo. Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato Giulio Cesare Sottanelli che indirettamente ha appoggiato il Partito Democratico. Abbiamo dato un nuovo sindaco a Roseto, un sindaco che sicuramente farà meglio di quello precedente, un sindaco che noi abbiamo voluto appoggiare sia per una coerenza politica ma anche perché abbiamo messo sulla bilancia sia l'aspetto programmatico ma anche la qualità dei consiglieri eletti. Certamente il fatto che dall'altra parte c'era Norande ci ha indotto senza ombra di dubbio di scegliere uno dei tanti motivi ma anche quello di scegliere il candidato di Girolamo. Siamo fortemente contenti perché c'è stata un'ampia risposta, tutte le nostre liste hanno in maniera convinta appoggiato il candidato di Girolamo, tant'è che il risultato lo testimonia, quindi la differenza è proprio il nostro contributo che abbiamo portato ma soprattutto questo consentirà di avere una maggioranza ampia in Consiglio Comunale e quindi abbiamo messo con il nostro contributo nelle migliori condizioni il nuovo sindaco di poter far bene a Roseto. A Sulmona vincere Anna Maria Casini, unico comune. Sulmona ha ad andare alle urne prima della cadenza naturale per le dimissioni dell'ex sindaco Ranali, una vittoria soprattutto anche per l'assessore regionale Andrea Gerosolimo destinata a modificare anche gli equilibri della politica in regione Abruzzo. Alfredo Primante. La vittoria di Anna Maria Casini a Sulmona non è mai stata in discussione sin dal primo turno battuto con distacco abissale il candidato del centro-sinistra Bruno Di Masci che si presentava senza il simbolo del Partito Democratico. Tra la candidata di un raggruppamento civico ispirato dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo e già sindaco di Sulmona corrono 31 punti percentuali di differenza. Per Di Masci non ha pagato l'apparentamento quantomeno singolare con Forza Italia ed Elisabetta Bianchi che tanto aveva fatto discutere anche nel centro-destra. Già dal primo turno era nettissimo il nostro vantaggio, abbiamo rischiato di superare già in quella fase la soglia del 50%, ciò non è stato. Abbiamo dovuto affrontare anche il vallottaggio un periodo in cui si sono accese delle polemiche secondo me anche eccessive, troppe bugie, troppi veleni, ma non fa niente. Adesso siamo arrivati, c'è stata una riconferma nettissima, abbiamo sicuramente doppiato i nostri competitori che le hanno provate proprio tutte, le hanno provate proprio tutte, ma noi abbiamo dimostrato di essere più forti. Sulmona vuole cambiare, vuole Anna Maria Casini, vuole la sua squadra e vuole la Sulmona che vuole girare pagina! Il risultato della città ovidiana è destinato ad avere ripercussioni anche sulla politica regionale. Questa è una vittoria straordinaria, dicevo prima, perché finalmente si volta pagina, si volta pagina per sempre. Inizia un'epoca nuova, questo territorio ha voglia di cambiare, ha voglia di reagire, lo ha mostrato con tanto coraggio e tanto cuore. Anna Maria è stata la giusta interprete di quella che è la volontà di un territorio che grida la voglia di cambiare. Adesso credo che la risposta di Anna Maria e della sua coalizione sia quella di formare immediatamente la giunta, spero nel giro di una settimana, ma ne sono convinto. E a Lanciano c'è stata la riconferma di Mario Pupillo, sempre partito democratico, che batte Enrico D'Amico Ago della bilancia, probabilmente l'apparentamento con Casa Pound e anche l'eventuale ingresso in comune che tante polemiche aveva suscitato. Vediamo. I cittadini di Lanciano hanno premiato la progettualità, l'impegno, la trasparenza, la chiarezza dei programmi e questo ci onora. Ci fa dire che ci hanno votato anche coloro che non erano della nostra coalizione, quindi un valore aggiunto, ma anche un segnale forte che io ancora di più dovrei essere il sindaco di tutti i lancianesi. Parlare di sorpresa forse è troppo, ma la vittoria di Mario Pupillo, che si riconferma sindaco di Lanciano con il 54,75%, alla vigilia di questi ballottaggi non era affatto scontata. Il centro-sinistra tiene botte e difende il comune dall'attacco di quella che sembrava una vera e propria corazzata, soprattutto dopo l'apparentamento tra il candidato dell'Udc Enrico D'Amico e Tonia Paolucci alla guida di un raggruppamento civico. Il centro-destra nel suo complesso non va oltre il 45% e forse a pesare. È stato proprio quell'apparentamento con dentro il gruppo neofascista di Casa Pound che ha suscitato tante polemiche che non è stato capito dai lancianesi. C'è poco da dire e ci aspettavamo un altro risultato. Sicuramente ha pesato in maniera forte il clima degli ultimi dieci giorni di campagna elettorale dove si è parlato soltanto di Casa Pound e di questa questione apparentamento. Poco di programmi, poco delle nostre idee e quindi questo ha pesato negativamente. Comunque è una sconfitta, auguri di buon lavoro a Mario Pupillo per i prossimi cinque anni. Che il PD avesse puntato forte sulla rielezione di Pupillo, che anche alla guida della provincia di Chieti lo si è capito dalle presenze in città dei vertici democratici. Da Alessandro e Palucci infatti sono stati i primi ad abbracciare il mio sindaco. Ma quella del sindaco uscente è stata una vittoria di squadra rivendicata anche dagli alleati. Credo che noi abbiamo iniziato un percorso a marzo, come dicevi, facendo le primarie, facendo decidere al popolo chi doveva essere il candidato sindaco. Era un risultato netto quello di Mario Pupillo e quindi noi ci siamo uniti, tutti e quattro i candidati, insieme a Pino Valente, insieme a Caporale Francesca e a me stesso, dicendo Mario e il candidato sindaco. Allora, noi sentivamo che c'era un'aria che andava verso, nei nostri confronti, sentivamo questo grande affetto da parte della città, una città che si era ribellata agli inciucci, agli accordi sottobanco, a questo apparentamento che è stato un vero e proprio autogol da parte del centrodestra. Ci credevo fortemente, sono stato sempre sereno, ho trasmesso la serenità ai miei amici, i miei collaboratori, alle mie liste e sono contento perché veramente abbiamo presentato un risultato straordinario che ci premia. Il Partito Democratico conquista tre nuovi presidi e anche nuove responsabilità e allora all'indomani dei risultati elettorali abbiamo chiesto un'analisi al segretario regionale del Partito Democratico, Marco Rapino. Segretario, i ballottaggi di ieri hanno visto una netta affermazione del centrosinistra sul centrodestra, un 4-0, un poker netto che probabilmente va anche al di là delle più rose aspettative per voi. È un risultato che premia il lavoro che ha fatto il centrosinistra in questi anni di governo, il lavoro della squadra del Partito Democratico che ha lavorato duramente su tutti i territori in una campagna elettorale che è stata lunghissima. Il merito va alla scelta dei candidati sindaco che sicuramente hanno saputo interpretare il ruolo da Roseto con l'ottimo lavoro che ha fatto Sabatino di Girolamo, un candidato che il PD ha sostenuto convintamente anche se una parte del centrosinistra al primo turno non ce l'ha sostenuto ma poi anche al ballottaggio siamo riusciti a ricompattare l'elettorato del centrosinistra e a Lanciano la riconferma straordinaria di Mario Pupillo che ha lavorato duramente in questi anni e che è stato premiato agli elettori anche per la chiarezza che ha avuto negli ultimi 15 giorni che non hanno accettato nessun tipo di accordo mentre gli altri hanno lavorato sui soliti inciuci della politica e poi il lavoro messo in campo da vasto dove abbiamo Francesco Menna che è un sindaco giovanissimo con una squadra di giovani intorno che saprà amministrare benissimo la città. Ecco io credo che è una vittoria eccellente, inaspettata per il trend nazionale che c'è stato ma che premia il grande lavoro fatto dal Partito Democratico in questa regione che ha messo in campo una nuova classe dirigente che sta in questi mesi venendo fuori e dimostrando di essere vicini ai cittadini e si fa capace anche di farsi premiare. Questa è un'ulteriore responsabilità di governo per il centrosinistra e per il PD in particolare? Sì, è un'ulteriore responsabilità perché sappiamo bene quali sono i problemi dei cittadini. Oggi questo dato elettorale anche guardando al dato dell'astenzionismo ci deve far riflettere e fare capire quanto i cittadini hanno bisogno di risposte. La società di oggi è cambiata, le domande dei cittadini sono molto più complesse di un tempo e le risposte non possono essere semplici come quando vengono affidate alla demagogia. Questo esercito di giovani amministratori che abbiamo eletto nelle forze del Partito Democratico devono ben sapere che la competenza e la capacità di dare risposte complesse in modo semplice sarà la chiave per tornare a vincere anche le prossime volte. E da Vasto oggi si è svolta la prima cerimonia di insediamento tra tutti i comuni che hanno concluso i propri ballottaggi e le votazioni e c'era l'insediamento di Francesco Menna. Vediamo. Applausi Applausi Grazie a tutti. Come vedete alle mie spalle si sta ancora ultimando la fase dei saluti, degli abbracci dopo un discorso accorato, appassionato di Francesco Menna che ha parlato ancora di lavoro, di filiera, di tribunale, ha chiesto aiuto a tutti per amministrare questa città nel migliore dei modi e per farla diventare una città moderna. Ha appena detto che sei disponibile 24 ore su 24 a 360 gradi. E' a 365 giorni all'anno per dare pieno potere e piena legittimazione alla funzione pubblica che il mio popolo, il popolo vastese mi ha chiamato ad esercitare. Per dare piena dedizione, tempo, voglia, desiderio di fare, di dire, di osare, di progettare per la mia città. Di continuare a percorrere quella trama di rapporti che ci vede legati in maniera amichevole, in maniera amorevole con la regione Abruzzo. A costruire l'avasto del futuro, la città competitiva, la comunità della gioia, l'avasto della banda larga che in questi giorni si sta realizzando, prima fra tutte le città abruzzesi. E non è un caso che la regione Abruzzo oggi rappresente tramite Silvio Paolucci. L'avasto che dovrà investire sul porto, sulla variante della statale 16, sul nuovo ospedale, sulla grandi opportunità. La regione Ionico-Adriatica oggi ci lancia e basso nel consiglio di amministrazione di questa macro regione. Vorrò essere il sindaco di tutti. E se da un lato il Partito Democratico festeggia i propri risultati, le vittorie sul territorio regionale, dall'altro c'è qualcuno che critica il centrodestra proprio per questi risultati. E a farlo è proprio un rappresentante del centrodestra, è il senatore Antonio Razzi di Forza Italia che in una nota scrive Non una sconfitta ma una disfatta, in Abruzzo per Forza Italia si dimetta tutto il gruppo dirigente e si ritiri a vita privata, hanno distrutto Forza Italia. Il senatore Antonio Razzi affida una nota, il duro commento per il risultato dei ballottaggi e prosegue. I risultati delle ultime elezioni rappresentano uno scacco matto. A Forza Italia Razzi chiede le dimissioni di tutto il gruppo dirigente del partito in Abruzzo che va immediatamente commissariato. Non è ammissibile che Forza Italia sia stata letteralmente asfaltata anche dove storicamente è stata bastione del centrodestra. Questo gruppo dirigente non è solo gravemente colpevoli di aver portato Forza Italia allo sfacelo in Abruzzo ma anche di essersi impegnato con costanza a contrastare quelli che, come il sottoscritto, volevano sul territorio persone capaci di essere presenti. Occorrono persone serie e motivate per essere utili alla gente. Personalmente sono stato boicottato, senatore della Repubblica abruzzese d'occhi, in tutte le maniere, nonostante ai miei incontri con i cittadini le sale fossero sempre colme. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo all'Aquila perché in arrivo agli utenti del progetto Case oltre 5.000 bollette per i consumi di gas e energia elettrica e le polemiche sul calcolo dei consumi. Ci dice tutto Daniela Rosone. Nuova stangata per gli utenti del progetto Case dell'Aquila. Oltre 5.000 bollette relative al conguaio dei consumi di gas e luce del periodo aprile 2013-dicembre 2014 stanno arrivando pian piano agli assegnatari degli appartamenti del progetto Case. Parliamo di bollette da 500 euro circa, ma in alcuni casi si arriva anche ad un totale di oltre 2.000 euro. Rateizzazione, sì, è prevista, ma anche in questo caso ci saranno polemiche perché si continua a calcolare in base alla metratura degli alloggi e non alla lettura dei contatori. È una delibera di giunta approvata lo scorso 3 giugno a contenere tutti i dati relativi alle bollette per un totale di oltre 2 milioni di euro da incassare. Si potranno rateizzare, sì, fino a 18 rate, per un importo massimo di 150 euro ma la percentuale di morosità continua ad essere molto elevata, oltre il 44%. Delle 5.437 bollette in arrivo, 515 sono a credito, si tratta del 10% degli assegnatari, in genere sono quelli dei piani terra, 1.575 hanno un importo di 300 euro, 1.633 di 600 euro, 971 di 900 euro, 498 di 1.200 euro, 165 di 1.500 euro, 72 di 2.000 euro e 8 sono le bollette di un massimo di 2.500 euro. Nella delibera di giunta il Comune dell'Aquila cerca anche di spiegare perché vengono calcolati i consumi in base alla metratura. Secondo il Comune ci sono state grosse problematiche nel ripartire sulla base delle letture dei contatori e alla fine questo è sembrato il metodo più corretto, che però sicuramente porterà a nuove polemiche. E se di pochi giorni fa era la notizia dell'annullamento dell'edizione 2016 del trofeo, Matteotti poi è arrivata la discesa in campo da parte di antilocali e sponsor, ma in attesa della comunicazione ufficiale intanto si scatenano le polemiche. Vediamo. Il trofeo Matteotti si correrà regolarmente. Una settimana fa era arrivato lo stop da parte degli organizzatori, a distanza di poche ore il passo indietro. Non è arrivata ancora la comunicazione ufficiale, però l'amministrazione comunale ha detto che si correrà e si svolgerà regolarmente la manifestazione. Cosa è accaduto in così poco tempo? Diciamo che io mi ero sentito con il dottor Ricci, organizzatore del trofeo Matteotti, appena avuta la comunicazione dell'annullamento. In quell'occasione avevo espresso il nostro grande dispiacere per l'annullamento di questa manifestazione, chiedendogli anche se ci fossero state delle possibilità di poterla rimettere in piedi e in quel momento lì queste possibilità non c'erano. Evidentemente c'è qualcosa che è cambiato, per cui già da questa mattina sono arrivate tutte le documentazioni da parte dell'organizzazione per poter organizzare il trofeo Matteotti. Noi come Comune interverremo con un piccolo contributo, credo che il grande contributo verrà dato dalla Regione. In ogni caso ritengo che ci sia anche un intervento da parte del Presidente della Regione per cercare di sollecitare un attimino il mondo imprenditoriale della città di Pescara perché perdere il Matteotti non faceva piacere a nessuno. Il centrodestra dice che il Comune di Pescara si è preso dei meriti che non ha. Voi cosa rispondete? Noi in ogni caso se c'è qualcuno che ci aiuta a livello di filiera istituzionale non è che lo rimandiamo indietro, quindi siamo contenti che da parte del Presidente della Regione si sia mostrata questa grande sensibilità. Però, ripeto, da parte nostra io posso dirlo senza tema dismentita che il giorno stesso in cui ho saputo dell'annullamento mi sono sentito col Dottor Ricci dandogli la nostra disponibilità nel cercare di fare tutto il possibile perché il trofeo Matteotti non venisse cancellato. E ora lo sport, parliamo di calcio, parliamo del Pescara perché nelle prossime ore si avrà la conferma del nome del club di Lapadula, del bomber bianco-azzurro. In pole position c'è il Napoli e poi si va a vedere anche chi sarà nel ruolo di portiere e c'è anche Bizzarri. Vediamo. Quella iniziata oggi sarà la settimana dei primi colpi di mercato bianco-azzurri. In entrata ma anche in uscita tutto ruoterà ovviamente attorno all'accessione di Gianluca Lapadula. Mister 30 gol nelle prossime ore dovrebbe dire sì al Napoli chiudendo un lungo tira in molla e soprattutto un'asta che dura da settimane. Anche Gianluca Caprari potrebbe finire in Campania ma restare per un altro anno in bianco-azzurro. Per l'attacco piace Erold Presiado per cui il deportivo Calì chiede 7 milioni di euro. I nomi caldi per il reparto avanzato restano anche quelli di Marcello Trotta del Sassuolo, Gaetano Monachello dell'Atalanta e Federico Maceda del Cardiff. In partenza direzione Frosinone o Salerno, Andrea Cocco. Per quanto riguarda le conferme resteranno a Pescara sicuramente Fornasier Campagnaro, Zampano, Crescenzi e probabilmente anche Dario Zuparic per la difesa, Memuschai e Selasi per il centrocampo. Mentre ci sarà da parlare con l'Udinese per Verre che Oddo chiede però fortemente. Verde invece non è stato riscattato ed è tornato alla Roma. Capitolo portiere, tanti nomi sul taccuino dei dirigenti abruzzesi. Oltre al riscatto di Fiorillo che non è detto che resti in riva all'Adriatico, si punta ad un portiere di esperienza. Il nome delle ultime ore è quello del 38enne estremo difensore argentino del Chievo Bizzarri. Resta in piedi l'affascinante ipotesi de Sanctis. Poi ci sono Bardi, Leali e Sepe che rappresentano comunque delle prime scelte. Lacerà Pescara Resti. Intanto la società Bianca Azzura sta avviando collaborazioni tecniche importanti con Ancona e San Benedettese dove potrebbero essere trasferiti giovani da far maturare. La prossima settimana dovrebbero infine arrivare le prime informazioni importanti sulla nuova campagna Abbonamenti. Una bufera con lo sponsor per l'Aquila Calcio. Il presidente Corrado Chiodi risponde alla famiglia Iannini. Lo sponsor principale nel finale della stagione dice volevamo decidere prima di entrare in società. Questa è l'accusa di Chiodi. Ora si vedrà chi ha davvero a cuore il futuro dell'Aquila Calcio. Queste le dichiarazioni del presidente. Giorgio Alessandri. Dopo la retrocessione in Serie D è l'ora della resa dei conti all'interno dell'Aquila Calcio e volano gli stracci tra la famiglia Iannini che aveva annunciato di non volere entrare in società e il presidente Chiodi che gli accusa di aver voluto imporre delle scelte ancora prima di subentrare nel sodalizio rosso-blu. È durata solo qualche mese insomma la luna di miele tra l'Aquila Calcio e i due Iannini con Iannini Senior e Eliseo che con la sua azienda aveva ricoperto il ruolo di main sponsor della squadra è Iannini Junior Davide di cui a lungo si è parlato come nuovo possibile vicepresidente. Negli ultimi tempi ha scritto in una dura nota Davide Iannini sono emerse divergenze sostanziali e non superabili su più fronti in primis per quanto concerne l'organizzazione del club e le modalità di gestione della fase economica e tecnica dello stesso. In secondo luogo ma non per importanza avevamo messo a punto un preciso e circostanziato piano di rilancio sotto il profilo tecnico e organizzativo di cui il presidente era perfettamente a conoscenza tanto è vero che avevamo pronti accordi con figure tecniche di indiscutibili potenzialità superiori sia alla categoria direttantistica che eventualmente la Lega Pro. A strettissimo giro di posta è arrivata la replica del presidente Chiodi. Dal loro comunicato dimostrano di voler imporre delle scelte e condizioni prima ancora dell'entrata ufficiale in società. Accettare significherebbe minare la coesione di legame tra i soci storici che rappresentano questo sodalizio. Atteggiamenti che già in passato hanno rischiato di creare tensioni e malumori tra i soci e disorientamento tra operatori e calciatori. Una situazione questa che una volta chiarita non lascia più dubbi su chi ha veramente a cuore il futuro della nostra squadra fondato sulla partecipazione ed armonia all'interno della società. Di positivo in mezzo a tutto questo caos c'è solo che la società ha deliberato un aumento di capitale da 600 mila euro. Fondamentale per programmare la prossima stagione le cui aspettative sono divise tra la flevile ipotesi di ripescaggio o un campionato di serie D in cui i rosso-blu verosimilmente saranno inseriti in un gerone composto da squadre abruzzesi, marchigiane e molisane. Il Tg6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Buonanotte.